Nero, è una vestibilità aderente. Io ho preso la mia misura, così come abbiamo visto prima nell'insegnamento che vi abbiamo dato questo tutorial, i girovita e i girofianchi e sono perfetti. Io normalmente ho una 3840, mi risulta morbida nella parte superiore e sempre un pochino più aderente sotto, vedete? Se non sbaglio, tu hai la S, giusto? Sì, mi conferma la S. Guarda che belli che sono in blu. Beh, questo è il classico jeans. Classico all'apparenza, perché nessuno saprà che intanto tu, eh eh, tiè, sotto sta lavorando per la tua pelle e nessuno lo sa se non tu quando li togli e vedi subito questa meraviglia di pelle morbida. Già quando ti vedi con questi jeans ti piaci perché hanno una bella linea, un bel comfort sul... Io faccio un diversivo, Luca, no, no, Susi, non scappare, fai io. Vengo io da te, facciamo un cambio, sì, dai. Passeggio, così vi faccio vedere che è vera, troppo alta ma vera. Qui abbiamo il blu e il nero. Noi siamo obiettivamente due fisicità completamente diverse, però questo pantalone valorizza entrambe. È bello, è morbido, non scalda, perché qui dentro a tratti fa caldo e freddo, ma non senti questi sbalzi sulla gamba, non senti quelle vampate di calore che pensi, vabbè, questo filato emana, fa questi, come si chiamano, raggi fir, che sono raggi infrarossi lontani, che scaldano, così li senti, dici, raggi infrarossi, sentirò caldo. No, il caldo che si crea è nella parte superficiale della pelle e va a lavorare sulla grana della pelle. Questa è la tabella. Ottimo, per più stagione. E voi direte, perché il filato emana anche su una maglia? Perché andiamo a lavorare su quegli inestitismi che spesso vanno anche a ledere un po' la piacevolezza di certe donne di poter indossare o di portare, di dare proprio la bella stagione a mostrare le braccia. Le braccia, nelle parti, per esempio, molto spesso, ogni tanto capita anche a me, magari in certi periodi dell'anno, senti proprio la pelle ruvida sopra il vomito nella parte alta dell'avambraccio. Magari anche per tutti. E' altrettissimo. E per cui, per chi ne soffre, anche nel punto vita, se vai a lavorare su un insieme... Pensa anche, se non la parte sana è preservato, perché non va via con i lavaggi, è il tessuto proprio che è fatto così, il filato, che è fatto così, si asciugano in un baleno. E l'altra cosa bella è che non ti fa... almeno io non ci sugo qui dentro. E' una bella sensazione, perché la pelle rimane alla giusta temperatura, non ti senti né accaldata né infreddolita, cioè perfetta. Ovviamente, essendo anche una manichina, porta magari tendenzialmente, nelle zone più critiche della sudorazione, potresti sentire umbido. Non si sente. Ed è un marchio tutto italiano, una qualità pazzista, made in Italy. Che cosa fa il filato emano? Lavora col contatto diretto della pelle. Quindi la mettiamo laddove ci stiamo.